ciao ragazzi e bentornati qui sul mio canale qui sono qui le nuove campanee di manco ancora una volta proprio lui e oggi ragazzi come di consueto siamo qui su code 4 per la nuova gb manco siamo dove siamo sopra o sotto dobbiamo sì sicuro no cambia manco il tipo ha sbagliato no no ha sbagliato lui ok perfetto stava guardando le classi probabilmente ok ragazzi nuova gb cerchi strugge obiettivo vincere non abbiamo più fatto una gb dall'ultimo video siamo messi male a livello di classifica perché abbiamo giocato poco però comunque siamo messi abbastanza bene come team quindi manco dobbiamo portarci a casa questa ok io non gioco su console da un po' perché stavo giocando su pc non ho visto nessuno crossare in b quindi andiamo in b manco c'è uno c'è uno no mi spara aiuto aiuto e aspetta che sono pensavo volessi andare in a fuori bastardo ma non ho pensato che avessi lo sniper quindi sono un attimo in ritardo allora no l'ho preso nessuno io per ora dietro manco non lo prende ma che cazzo è dietro manco non ho preso perfetto bravissimo manco verso swan manco il suo pinguino nell'emblema ovvio lui vediamo cosa riuscirà a concludere quest'uomo ma la visione guarda secondo me è nascosto qua dentro questa casa in qualche angolo ma quello che t'ha ucciso a te che ho ucciso io è lui eccolo l'hai visto ok dai stai lì sopra un uomo manco lo fotti no 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 eh manco ti sta oh non metterò i colpi raga cos'è ma che cazzo era sta cosa non metterò i colpi l'ho mai visto la molto più imbarazzata che abbia mai visto a coltellato tramite un vetro ma che cazzo ma anche a me non entrava in colpi ma cosa cazzo è vabbè vabbè abbiamo regalato il round più imbarazzante del io fosse se sarei salito sarei salito sul muretto l'avrei fatto da dietro tanto questo l'hai visto che è rimasto lì piantato è ok ma ho pensato che fosse un attimo intelligente e dicesse non tornerà mai da dove gli ho appena sparato capito invece lui è rimasto lì uno guarda il cross ma io ho potuto fare d'arresto perché faccio i marchi sotto i due in b perchè stottio madonna che lo farei manco l'ho visto uno guarda che bella granella che arriva in faccia solo vinci un bel tapiro d'oro per manco tapiro d'oro lo vorrei la verità che non sono forti quindi poi spaccarli volendo a me mi ha ammazzato come un idiota ogni volta quindi non farti problemi challenger scoprali sono sopra la casa guarda oh sniper mi ha visto bravissimo l'altro era sicuramente ti mira tipo l'ingresso come ha fatto prima cosa perché allora quel tipo rendi domanda e ora sono cazzi diretto manco fila tenuti fermare 30 secondi ok mi aspettavo una cosa del genere quando piazza bomba non corri a cazzo di cane contro ma va bene io non ho fatto ancora una kill e ho fatto due hitmarker e non un hitmarker col cecchino senza avere già agganato il tipo proprio hitmarker pura con potere d'arresto però bello è giusto così ma io non mi arrendo non avevo il cecchino andiamo in b per favore ok non mi arrendo proprio giusto che sia così per sé vero ok sono visto nessuno perché non so come cazzo giocano ok tranquillo tranquillo si sono veramente dei dei pazzi non vedo nessuno ho lanciato io la granata non vedo nessuno nemmeno qua dentro casa dentro casa dove sopra è one shot sopra ok è andato andato verso indietro cioè nel senso era nel vetro nella finestra è andato è sopra il barile no ma vabbè oh non lo vedo io dove cazzo ho finito è dietro quel cazzo di barile manco ma sotto ma no ora capisco non ho la mira assistita non ho la mira assistita stavo giocando senza mira assistita cazzo cazzo ecco perché non gli entrava nei colpi dobbiamo fare il comeback della vita manco vai vinci sto round per favore cioè della vita oddio vinci sto round per l'amore del cielo ma infatti cazzo gli sparavano e non sai quando non è la mira assistita e tu li colpisci ma non entrano perché di fatto li manchi di qualche millimetro che è quello che ti dà la mira assistita no quella precisione che non puoi avere con l'analogico e niente in pratica non morivano infatti diciamo ma vaffanculo io non capisco dove cazzo è quello la però l'hai visto? è sopra sopra manco là sopra wow vabbè ok ok ora ragazzi mira assistita attiva e l'obiettivo è vincere questa partita ok abbiamo presa una po' cioè non era presa sotto gamba la verità è che non avevo la mira assistita ripeto fa una volta quindi non era cioè io stavo c'è io gli sparavo lì colpivo vabbè ora la musica cambierà me lo sento what? dai ragà però ma vaffanculo basta vabbè non ha senso ho fatto zero kill manco allora forse siamo d'accordo con il fatto che io non son forte col cecchino si ho capito ma ok allora quello che faremo noi adesso è vincere un round col cecchino l'ultimo round col cecco dopo a precine che vinciamo meno questo round io lo levo va bene ok perfetto eh non farò mai più una sponkill perchè io non l'ho mai fatta in vita mia la sto prendendo solo adesso senti andiamo in B va bene ora la musica cambia me lo sento quanto di sensibilità c'è? andiamo 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 vai 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 madonna però ok come come perdere una gb madonna mia allora quello lì sappiamo uno gioca col barret e l'altro con l'M6 si 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 quello con l'M6 ha pushato l'ho fatto ma manco manca lo sniper io metto larghissimo per sfruttare bene il mio cecconzo perfetto ok mettiti sdraiato in qualche corner e non muoverti intanto ho tutto sotto controllo io sto guardando che non arrivi da dietro nel senso no no tranquillo continuo non vedendo sento il rumore in casa aspetta la bomba su chiamalo niente dai ok raga ora parte il comeback ottimo metto le armi che dici? mmm come vuoi se te la senti giocare un giochino no io non me la sono mai sentita in realtà l'ho voluto mettere per fare un pochettino il buffone però adesso dai va bene mettiamolo mettiamoci l'M16 e impegniamoci io direi di andare subito in B metto la cappino e vaffanculo ok smoke oh eh mi mancava questo ma mi manco spara a casa o mi prende lo so già ma va ma ha preso porca puttana sono one shot ah tra manco ok vabbè adesso siamo un attimo salvi merda granata sono sicuro da giù là in fondo adesso verso il granaio credo ok si 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 è tirata tu la granata? si 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 no ma non li vedo in realtà è sopra il tetto è sopra il tetto ok fermo 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 è one shot sopra il tetto penso si sia scappato mi sposto l'ho colpito l'ho ferito non riesco a ucciderlo ma dove cazzo è ancora sopra no è dietro uno merda dal nostro spawn arriva su bomba mi hanno rotto i coglioni su questi tetti di merda devo giocarmela buona pezzo di merda è ancora sul tetto il tempo sta per scadere eccolo godo uomo di merda vai a spazzare i camini bastardo che palle ho ma io lo stavo semirando raga allora io vi dico questo che poi vabbè non è una scusa io sono due giorni che gioco solo su pc per imparare a spalle su pc quindi questa è la prima partita che faccio col pad dopo due giorni più o meno quindi è strano ma molto poi vabbè sto qua va sui tetti allora manco pusciamo in bifidati vai vieni 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 ok dammi il tempo arrivo è dietro il muretto preso bravo vai a piazzare subito fidati ok sto plazzando sto piazzando sto piazzando cosa cazzo è mixta plant e piazzare esatto verbo plazzare si forse nel granaio ok 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 eh niente fermo dietro il muretto bella eh buona dai così tre round ottimo l'ultima l'abbiamo comebackato dai manco dai raga neanche ci provano più a sparare ormai giustamente poi ho jaggerato quindi in pre vita sono più basse allora io non li vedo non vorrei che faccia come prima e ci flencasse uno sinceramente passiamo dal loro spawn fidati ci hanno inculato manco lo sai vero? si io corro perchè se qua provo a crossare io preso era lui? si vuoi provare a splant no vabbè ci avviciniamo è rimasto lo sniper si e splanta va bene ce la tentiamo e te lo dico non ti assicuro nulla però merda mi ha spennato occhio pezzo gran figlio di troia no god godo godo insomma ho fatto la capia dai in poche parole ho assorbito l'esplosione va bene quella granata non me l'aspettavo cioè che poi era prevedibilissimo lo fanno tutti poi ho detto vabbè l'avrà già usata invece no non è ho visto da parte esplodere la granata e sono rimasto vivo io godo ok andemina vai 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 dai dai ci avrei voluto fare una doppia lo sai velo senza problemi si faccio una fake cosa se vuoi se vuoi mi sembrato se non mi è mio 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 si ciao bello ottimo la 4 a 0 5 a 4 vai così manco vai vai mettiamoci a casa anche su ultimo round dai siamo tutti felici e contenti e sorridenti allora io direi di andare in io direi di andare in A invece sai perchè sono andati poi me l'hanno piazzata quindi diranno oh mio dio andami in A perchè sono troppo stupidi andando in B ok quindi ora dite una granata qua non ha preso nessuno sono in B andiamo corri 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 non ti fermare non li vedo sinceramente bomba piazzata ok fa il culo perchè sparo perchè ok l'altro è va bello ole buona splanta va guitta 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 ragazzi questa gb finisce qui io spero abbiate apprezzato questo nuovo ritorno questo ritorno ecco delle gb visto che era da una settimana e da più o meno che non ne portava nessuna e ringrazio anche per aver partecipato se ne volete altre ragazzi lasciate un bel like passate nel suo canale perchè ce ne sarà un'altra quindi doppia dose di gb ragazzi vi lascio il suo canale in descrizione e ci becchiamo alla prossima Buh Buh berha shh 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 Grazie a tutti.